Direttore, entra nel vivo la rassegna Spring in Nevelle, ma dalla Valle dei Tempi ci si sposta al centro storico per un evento culturale da non perdere. Da non perdere assolutamente, venerdì via Garibaldi a partire dal 19 ci saranno innanzitutto i monumenti di quella area, Santa Caterina, San Francesco di Paola, la Chiesa della Dolorata e la Chiesa di Santa Croce Aperti, dopodiché ci sposteremo a Piazza Santa Croce, un evento gratuito, lungo, alcune ore, gratuito con attori importanti, a cominciare da Andrea Tidone, al quale verrà dato il compito di fare una narrazione lungo il quartiere Rabato, nella Piazza Santa Croce e ad altri attori che parteciperanno a queste iniziative importanti, perché il centro storico racconta una parte di storia che noi vogliamo che sia sempre viva e che faccia parte dei 2600 anni di racconto di questa città che non è solo Valle dei Templi. Quindi ci sarà questa iniziativa che poi vedrà lo spettacolo iniziare teatrale a Santa Croce intorno alle 20.30, a 21.00, poi ci sarà la possibilità di avere, dopo lo spettacolo di Andrea Tidone, la possibilità di una degustazione dei prodotti di Odoros e da lì poi si inizierà un cammino all'interno del centro storico, sin arrivare alla villa del Galluzzo, che è al monte del quartiere Rabato e con il calare delle ombre serali ci sarà la possibilità, avremo 100 torce, la possibilità di avere un percorso illuminato che ogni partecipante avrà la possibilità e quindi una possibilità immersiva all'interno del centro storico con un attore e altri partecipanti dell'attività culturale e dello spettacolo che narreranno all'interno del centro storico. Quindi un invito a partecipare, un invito a partecipare perché è una iniziativa importante, un'iniziativa che tiene viva la memoria di un quartiere del centro storico, è un'iniziativa che vede la partecipazione di artisti che narreranno anche Pirandello e quindi la possibilità di avere uno spettacolo che riguarda tutto, riguarda la letteratura, riguarda la promozione del territorio con Diodoros, che riguarda il riprendere la vita all'interno di un quartiere per ora un po' sopito che vogliamo che ritorni a vivere come lo era nel passato. Appuntamento? Vi aspettiamo venerdì 10 giugno in via Garibaldi dove a partire dalle 19 sarà possibile fare la visita ai monumenti che sono aperti e a partire dalle 21 a Santa Croce inizierà l'attività di spettacolo con Andrea Tidone, ingresso gratuito.